in 19 uscite e poi ha soltanto 3 piazzamenti, quindi cavallo molto discontinuo. La sorpresa potrebbe venire da Ruggiade F, numero 3 dello schieramento, cavallo infatti molto seguito al gioco, 7.52, cavallo che potrebbe fare la sorpresa, ma il tempo a nostra esposizione per la presentazione è già terminato, i cavalli vanno in partenza. Settima corsa di Palermo, indigene di 4 anni sulla breve distanza, in 13 al via, favori al gioco per il numero 4 Razzo Sem, i cavalli vanno a lanciarsi sulla retta di fronte, lancio che avviene in questo istante e che vede l'ottima partenza di Royal Cosmos Bigi, al cui esterno comunque si fa presente un altro dei cavalli su cui circolavano buone voci, ovvero Rom D'Asolo, numero 7 dello schieramento, che sfonda e va a condurre con in mano Luciano Messineo. Dunque Rom D'Asolo al comando nei confronti di Royal Cosmos Bigi, poi Razzo Sem per linee esterne Romelias che si trova ad affrontare una tattica poco gradita, i cavalli stanno per uscire dalla prima curva, 30 scarsi sul biocronometro per i primi 400 metri, con Rom D'Asolo, Baldandoso, Battistrada nei confronti di Royal Cosmos Bigi e di Razzo Sem, di fuori con il numero 9, vediamo sempre Ruggiada F, più indietro Rivombrosa OM. I cavalli stanno per affrontare la penultima curva, sono stati percorsi circa 700 metri, con un cavallo in doppia cifra come vincente al comando, Rom D'Asolo con Luciano Messineo, sta tirando via di Lena, un minuto e qualcosina per i primi 800 metri, adesso sposta Razzo Sem quando i cavalli stanno per imboccare la retta di fronte, Rom D'Asolo prova a difendere la posizione dei leader, il suo primo chilometro è sul piede dell'1.15.6-1.15.7, adesso lo richiama Luciano Messineo, ancora più vistose le sollecitazioni da parte di Razzo Sem, mentre ha sbagliato Royal Cosmos Bigi ed è ancora la Rom Elias che dopo un impegno contrario alla sua attitudine, partenza e arrivo di fuori, riesce ancora ad essere bene in quota, i tre sono davanti a tutti gli altri, adesso è Roger Jet numero 13 che viene fuori dal gruppo e si propone in quarta ruota e siamo alla retta d'arrivo con Razzo Sem che insiste su Rom D'Asolo che comincia ad accusare la fatica, più a largo Rom Elias anche lei è un po' incalando, però adesso è Roger Jet che arriva molto molto forte a largo e sul palo probabilmente resiste ancora Razzo Sem, ma davvero difficile valutare così dal vivo, adesso andiamo a rivedere sul traguardo chi può averla spuntato fra Razzo Sem che è il favorito della corsa e Roger Jet con Antonino Porzio, Roger Jet che negli ultimi metri guadagna, guadagna, guadagna e sul palo probabilmente ce la fa Roger Jet per il doppio Antonino Porzio nei confronti di Razzo Sem, mentre resta terza una straordinaria Rom Elias, dunque doppio in giornata per Antonino Porzio e vittoria di Roger Jet, almeno così ci è sembrato, 8,96.